ciao allora benvenuta nel video delle scoperte del mese allora il primo prodotto che vi voglio mostrare questo mese è questa crema mani che gli avevo mostrato in un video dove ve l'avevamo acquistata è la crema mani fiore di loto e salvia del libro che allora che ho completamente finito è un 30 ml ho segnato il prezzo che è di 2,95 euro ed è un punto verde quindi non è mai scontabile se non con le promozioni nel catalogo quando fanno il set regalo allora questa intanto è la confezione ok allora intanto l'inci è davvero molto valido quindi ottimo poi la confezione è un 30 ml quindi è piccolina e comoda anche da portarsi dietro in viaggio oppure in borsetta ed è valida poi veniamo al profumo fresco freschissimo sì me lo ricordo è fresco mi piace non so se non sa di salvia forse fiori di loto comunque fresco è piacevole persiste un pochino sulle mani non tanto la texture poi è in crema ricca ma una volta massaggiato e basta davvero un massaggio velocissimo assorbe velocemente quindi è perfetta da usare anche fuori casa o più volte durante la giornata non crea nessun tipo di problema ed è perfetta perché assorbe subito e se vogliamo invece un'azione più idratante alla sera ne applichiamo uno strato un pochino più generoso e comunque sia ripara bene lascia le mani morbide idratate non unte e mi piace mi è piaciuto sicuramente questo ve lo consiglio le novità mi piacciono sempre un sacco andiamo avanti e adesso vi mostro questo balsamo per i capelli dell'ultra dolce balsamo crema nutriente oliva mitica dice di avere essere all'olio di oliva vergine capelli nariditi sensibilizzati con estratti naturali eccetera eccetera questo me l'avevano mandato infatti comunque 200 ml 1 euro e 79 adesso ve lo mostro perché ovviamente l'ho finito allora io si visto di questo prodotto io ero scettica perché non mi piace la profumazione all'olio d'oliva o all'oliva quindi ho detto e invece mi sono ricreduta mi piace in questo caso dunque il profumo non sa assolutamente di oliva ma è fresco a me è piaciuto sicuramente tanto poi soprattutto fa quello che promette quindi applicato una noce di prodotto sulle lunghezze sulle punte si lascia agire come balsamo tre cinque minuti e poi si rimuove facile da rimuovere e lasci i capelli belli morbidi idratati nutriti belli li sentite la sentite la differenza facile da pettinare e da mettere in piega ma non li sporca non li unge non ingrassa e non li fa sporcare più velocemente io ho i capelli un po secchi sulle punti e i grossi grassi sulla cute e mi sono trovata davvero bene questo qua ha fatto questo qua ha fatto davvero miracoli perché dopo applicazione si sente la differenza quindi sicuramente un prodotto che se avete i capelli un pochino secchi vi consiglio di provare perché si sente la differenza veniamo ora all'ultimo prodotto per questo mese e questa è stata una scoperta allora tanto era nel calendario dell'avvento dell'ossitan questo è sì detto dell'ossitan è l'olio da doccia per il corpo con il 10 per cento di olio di karité allora io ho amato la confezione perché aveva il tappino che si apre questi pecc davvero gli oli li conservo perché sono fantastici quello che avevo io era un vi dico la quantità se c'è era un 35 ml comunque ho segnato il prezzo 250 ml vengono 18 euro e l'ho visto sul loro store ufficiale allora è questo e io non ho mai provato olio per doccia perché normalmente tendono a essere un po unti per me io non amo le cose unte effettivamente anche toccando il tappino adesso lo sento un po punto il profumo è qualcosa di paralisiaco se vi piace il karité questo è fantastico poi l'ho provato comunque ad usare basta poco prodotto lascia la pelle dunque fa una schiuma fantastica io all'olio non mi aspettavo facessi schiuma questo lo fa fa una bella schiuma morbida però si rimuove facilmente e non lascia la pelle unta anzi la lascia morbidissima quindi dopo non c'è bisogno neanche di applicare la crema idratante è stata una rivoluzione perché soprattutto in inverno tendo a avere la pelle un po secca questo ha fatto la differenza quindi davvero wow e quei palotti che mi hanno visto il prima e dopo si sente la differenza e che subito non ci davo proprio tanto perché dico sì lo provo sono curiosa ma non pensavo e invece è fantastico davvero soprattutto se avete la pelle secca oppure se amate i palotti comunque sia con buonici o che sanno di karité perché questo è fantastico il profumo che però non persiste sulla pelle ecco provatelo perché davvero rivoluziona e si vede la differenza si vede e si sente quindi garantito allora queste erano tutte le scoperte per questo periodo vi ricordo sempre di seguirmi anche su instagram perché lì pubblico le feste impression quindi le recensioni quelle più brevi ad esempio se ho un campioncino o qualcosa da provare che uso una o due volte lo scrivo lì sopra piuttosto che fare un video dedicato perché non avrei le recensioni da testare tanto prodotto comunque se vi ho fatto scoprire qualche prodotto nuovo se l'avete provati fatemi sapere come si trovate se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao